Allora, questa è la prima consegna di oggi? Sì. Alessandra ci spieghi un po' com'è? Allora, alla mattina vengono dati dei numeri dalle 11 alle 1, dei numerini anonimi e da un quarto alle 2, alle 2 si ripresentano chi ha il numero, consegna il numero e gli viene consegnato le passette. E i numeri li date a chiunque, non state a selezionare le persone? No, non si sta a selezionare le persone, a chiunque viene e chiede il numero. Com'è questa esperienza? Bella, bella perché insomma si vede un po' la solidarietà della gente anche fuori dai banchi che ci regalano tutta la verdura, poi si spera di aiutare chi viene a prenderla. La pensione le resti inizia. La pensione non ce la fanno, tieni un po' dentro la cena. Vediamo un po' cosa c'è in una cassetta. Ci si vede domani. A domani. Ciao. Stai con le cipolle. Sono cipolline di cipolle europea. Grazie, ciao. Ciao.